Ecco, ora come avevo preannunciato sono davvero lieto di poter dare la parola al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, il Dottor Carmine Antonio Esposito. Approfitto di questi secondi mentre il Presidente si avvicina al palco per prendere la parola per dirvi che noi appunto siamo onorati di questa presenza e dell'arricchimento che ci viene da questo dialogo. Anche oggi gli iscritti di questa associazione hanno potuto provare dei momenti intensi di emozione e probabilmente anche gli ascoltatori di Radio Radicale che hanno mandato in diretta i lavori che abbiamo tenuto qua perché ci sono stati familiari di detenuti che sono venuti a raccontare delle situazioni di abbandono sanitario di trattamenti inumani e degradanti. Quindi io mi sono fatto carico, non voglio metterla in difficoltà, volevo solo informarla di un dibattito che c'è stato, c'è anche qua la madre di Federico Perna, insomma. Quindi io veramente sono felice che lei appunto possa accrescere la conoscenza che abbiamo avuto e hanno avuto anche i cittadini italiani del dibattito che c'è stato qua. Grazie. Funziona? Sì, funziona. Grazie a voi innanzitutto che mi avete invitato. Io non ho ascoltato il dibattito di questa mattina perché sono stato impegnato anche per, anzi, soltanto ed esclusivamente per motivi di ufficio. Il tema della tutela della legalità è un tema fondamentale per ogni cittadino ma in modo più specifico per ogni magistrato. quando si discute di legalità, quando si discute di tutela dei diritti, penso che sia dovere di ogni cittadino in uno Stato democratico ascoltare e dare il suo contributo. Perché l'attuazione, la realizzazione dei diritti individuali nasce con la sinergia e con la partecipazione di tutti. Il problema della giustizia non è soltanto problema dei singoli giudici, ma anche problema della collettività. L'accertamento della verità avviene nel processo, nella fase di cognizione, in forma dialettica e dove tutti devono dare un contributo, i testimoni, chi ha visto, chi ha saputo, chi ha conosciuto deve dare il contributo. Il nostro vigente codice processuale penale dice che la prova si forma in dibattimento nel contraddittorio delle parti su una posizione di uguaglianza davanti al giudice terzo ed imparziale. E questo in via generale. Per quanto concerne poi l'esecuzione penale e quindi il mondo penitenziario, la tutela dei diritti dei detenuti, cioè di persone che per la loro situazione si trovano in una situazione di svantaggio, essendo essi stati privati legittimamente della loro libertà personale, indubbiamente assume delle diminzioni ancora più incisive e più responsabili. responsabilità che grava su tutti, sui giudici della sorveglianza, sull'amministrazione penitenziaria, perché gli edifici penitenziari devono essere specchio di legalità. Gli edifici penitenziari, come tutta la pubblica amministrazione, ce lo insegna, ce lo dice, ce lo impone la nostra Costituzione, devono essere istituzioni trasparenti, dove ognuno possa realizzare e vedere attuati i propri diritti e nell'ipotesi in cui questi diritti non vengono attuati o vengono violati, avere un giudice a cui rivolgersi per la tutela. Detto questo in via generale, non possiamo nasconderci che la situazione penitenziaria italiana non è delle ideali, non è del tutto conforme ai principi della nostra Costituzione. La nostra Costituzione, forse questo non è stato assimilato bene, nemmeno dall'opinione pubblica. Col primo gennaio 1948, quando è entrata in vigore questa Costituzione, si è avuta una rivoluzione copernicana in questo campo, nel senso che la pena non ha più una funzione punitiva. Quindi è cambiata la filosofia del codice penale. Il codice penale è rimasto quello, ma la filosofia che deve guidare i giudici e tutti i cittadini è cambiata. La pena, dicevo, non ha più una funzione punitiva, ma ha una funzione essenzialmente rieducativa, risocializzante. Quindi gli edifici penitenziari non possono chiamarsi come si vuole, ma nella sostanza non sono destinati alla punizione, ma sono destinati alla rieducazione. Quindi potremmo anche dire istituti di rieducazione. La punizione c'è, la pena c'è, la privazione della libertà personale ovviamente è una pena, ma le modalità non solo non devono essere in contrasto col senso di umanità e questo ce lo dice non solo la nostra Costituzione, ma ce lo impone anche l'articolo 3 dell'ACEDU, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ma devono avere anche una finalità ben definita, una finalità ben definita che è quella della risocializzazione del condannato. Per quale motivo? Innanzitutto per un dettato costituzionale, ma anche per il motivo di rendere la società più sicura. La rieducazione del condannato contribuisce in modo positivo, in misura incisiva, determinante, alla sicurezza della collettività, perché è ovvio, mi sembra una cosa così semplice, che è anche banale da parte mia ripeterla o ribadirla in questa sede, se il soggetto condannato, il soggetto che ha commesso un delitto, viene condannato, viene nella ispiazione della pena, riceve e recepisce un messaggio risocializzante, è ovvio che appena è ispiata questo soggetto non è più pericoloso. Questo si abbassa di molto il rischio della recidiva, la probabilità, l'ipotesi della recidiva, e quindi abbassandosi la recidiva, si abbassa il tasso di illegalità e aumenta il livello di sicurezza della collettività. Quindi io non condivido quella impostazione che si dice no, gettiamo la chiave, tolleranza zero, certezza della pena. Se tutti questi elementi, questi soggetti, vogliono, nei loro slogan, puntano alla sicurezza della collettività, mi sembra che abbiano sbagliato strada. La sicurezza della collettività non si ottiene, non si persegue buttando la chiave, si persegue invocandosi la certezza della pena, ma con una precisazione, certezza della pena non in senso matematico, aritmetico. Dieci anni, cinque anni, ha detto il giudice della cognizione, la sendenza di condanna passata in giudicato, cinque anni, dobbiamo aspettare il calendario, l'autologio, passivamente, poi cinque anni, dieci anni e si va via. No, certezza della pena significa certezza in senso funzionale. La pena deve essere certa, non nella quantità, ma nella qualità, cioè nella funzione. Se una pena che con le modalità raggiunge i suoi obiettivi, questa è la pena conforme al dettato costituzionale. Una pena diversa, che sia, cioè, certa nella quantità, ma non nella qualità, non è conforme alla Costituzione. Allora, se la pena deve essere certa nella funzionalità, nella funzione, chiedo scusa, nella funzione, inevitabilmente deve essere, deve diventare flessibile, cioè deve adeguarsi all'evoluzione del condannato. Non può dire cinque anni, non si discute. No, la pena, se deve tendere a questa certezza funzionale, deve inevitabilmente subire delle modificazioni. Dalla reclusione si può passare alle misure alternative, la semilibertà, l'affidamento in prova al servizio sociale, una riduzione anche quantitativa. Alludo all'articolo 54 della legge penitenziaria, in base al quale la buona condotta del condannato, o meglio, la partecipazione del condannato all'opera di risocializzazione, comporta uno sconto di 45 giorni ogni sei mesi, di modo che l'anno penitenziario, scusatemi l'aggettivo, se le cose vanno bene, non è più di 12 mesi, ma è di 9 mesi. Quindi è inevitabile questa flessibilità della pena, perché è funzionale alla rieducazione del condannato e la rieducazione del condannato è funzionale alla tutela della società. Questo è quello che dice la legge. Nella realtà avviene tutto questo? Non sempre. Non sempre. E diciamo le cose come stanno. Oggi c'è un sovraffollamento negli istituti penitenziari che condiziona negativamente l'attuazione di questi principi. Questo è un dato di fatto, è inutile che ce lo nascondiamo. E con questo non diciamo che è la colpa di quel soggetto che dirige quell'istituto, di questo e quell'altro. No, è un dato oggettivo. C'è un eccessivo sovraffollamento degli istituti penitenziari che oggettivamente, inevitabilmente, condiziona sul piano negativo quelle che sono le possibilità di rieducazione. Io dicevo istituti penitenziari uguali a istituti di rieducazione. Ma per ottenere questo, all'interno degli istituti penitenziari bisogna attivare iniziative lavorative, corsi professionali, di avviamento al lavoro in modo che il condannato acquisisca una capacità lavorativa professionale spendibile poi all'esterno. Ci sono queste iniziative, ma sono molto limitate, non sono, o meglio, sono proporzionati, insufficienti rispetto al numero, all'elevato tasso della popolazione detenuta. Un altro aspetto è l'eccessiva presenza dei soggetti sottoposti a custodia cautelare. Eccessiva presenza perché sono persone assistite dalla presunzione di non colpevolezza, finché non c'è una sentenza definitiva. E allora, forse, o senza forse, sarebbe opportuno che questi soggetti sottoposti a privazione della libertà personale per esigenza cautelare, ossia prima del passaggio in giudicato della sentenza, siano tenuti in istituti, edifici distinti, diversi. Non si può tenere nello stesso istituto chi è in attesa di giudizio e chi è già stato condannato. Potenziando, diceva la signora, potenziando gli arresti domiciliari, ma senza dubbio. L'obiettivo è di ottenere non uno sfollamento, ma di abbattere questo eccessivo, insostenibile sovraffollamento degli istituti penitenziari. Le vie, i mezzi con cui si può ottenere questo risultato sono molteplici. Non è compito mio, non voglio fare sconfitto. Chiedo scusa. Dico subito, non ho una capacità di dire tutto, ma mi auguro di toccare i punti fondamentali. Dicevo, le modalità con cui si deve raggiungere o si può raggiungere questo obiettivo, l'abbassamento o la riduzione dell'eccessivo sovraffollamento sono molteplici. Non è compito mio, non voglio fare sconfinamento di campo, è un compito questo che spetta al Parlamento. Il giudice per definizione deve applicare la legge interpretandola in conformità dei principi costituzionali. E su questo tengo a sottolinearlo. Quindi, nell'applicazione della legge tenendo conto dei diritti fondamentali dell'individuo, perché il condannato è come noi, è una persona umana come noi che resta titolare di tutti i diritti fondamentali umani di cui siamo titolari noi. Anzi, se mi consentite, acquista qualche diritto in più. E il diritto fondamentale che gli viene dalla Costituzione è quello di ottenere dallo Stato la rieducazione con la sua partecipazione, perché nessuna rieducazione si impone coattivamente dall'esterno o si impone dall'esterno. Quindi, esclusa la limitazione della libertà di locomozione che insita nella reclusione, la persona detenuta ha la stessa dignità di ognuno di noi, di ognuno di noi che vive nella società libera. Per la tutela e sta in una posizione di uguaglianza nella tutela, nella realizzazione dei diritti fondamentali. Primo di questi diritti fondamentali, è il diritto alla salute che indicava la signora il diritto alla salute e l'articolo 32 della Costituzione dice la salute è il diritto fondamentale di ogni individuo, di ogni cittadino, tutti, senza distinzione. Non ho capito che... Esatto, è fondamentale, è fondamentale. Se diciamo che la la come si dice la la pena non può consistere in trattamenti contrastanti col senso di umanità è ovvio che l'espiazione della pena che aggravi le condizioni fisiche o metta a repentaglio la vita dell'individuo o della persona detenuta non è conforme alla Costituzione. E sul piano penitenziario, lo sapete meglio di me, c'è stata la riforma sul piano della medicina penitenziaria. le competenze sono passate dallo Stato, dal Ministero della Giustizia alle Asle sostanzialmente alle regioni alle Asle per competenza. E l'obiettivo è che all'interno di ogni istituto penitenziario si realizzi o si attui un presidio sanitario per la vita quotidiana, per le esigenze quotidiane e riservando poi al trasferimento in ospedale, negli ospedali esterni, soltanto delle situazioni cliniche, patologiche che richiedono specifiche accertamente. Signora, io comprendo il suo stato d'animo, se mi consente, mi inchino davanti al dolore umano che oggi e suo domani potrebbe essere mio domani di un'altra persona. Benissimo, questo sono d'accordo, non deve mai succedere perché la lesione o l'offesa o la mancata o l'insufficienza o l'insufficiente tutela di un diritto fondamentale quale quello della salute nei confronti di un detenuto costituisce il fallimento dello Stato. Questo è il punto perciò che non deve mai capitare. non possiamo fare un dibattito, scusami. No, io non ho nulla, nessuna difficoltà, il suo stato d'animo è comprensibile. Io nello specifico, me lo consente, non entro, come principio generale sono d'accordo e l'ho detto ad alta voce, lo ribadisco, nella vicenda specifica con dovuto rispetto al suo stato umano io non intervengo perché c'è un processo in corso e quindi per una situazione l'auspicio è che queste situazioni innanzitutto non vengono mai più e che se ci sono il secondo auspicio che faccio io se ci sono state delle deficienze se ci sono state delle responsabilità che queste responsabilità emergono perché ognuno di noi nell'adempimento dei compiti istituzionali deve avere un unico obiettivo quello dell'osservanza della legge e dell'adempimento dei compiti istituzionali senza danneggiare nessuno questo è l'obiettivo adesso in che modo possiamo ottenere la riduzione del sovraffollamento che ribadisco e ripeto fino alla noia è la condizione indispensabile perché si possa avviare iniziare un'efficace opera o attività di reeducazione abbiamo detto una molteplicità di vie una può essere quella dell'amnestia dell'indulto che è stata indicata dal capo dello Stato ma ripeto è compito del Parlamento l'amnestia dell'indulto richiede una legge con maggioranza qualificata non è una maggioranza qualificata ma questo mi sia consentito non coltiviamo l'illusione che amnestia e indulto risolvano tutti i problemi se ci sono ben vengono amnestia e indulto ma da solo non sono sufficienti perché successivamente avremo le stesse difficoltà quindi bisogna pensare a modifiche a modifiche strutturali anche a modifiche del codice penale in cui accanto alle due pene tradizionali alle due sanzioni penali tradizionali reclusione e multa arresto ed ammento si istituiscono anche nuove sanzioni penali che possono essere la detenzione domiciliare già inflitta dal giudice della cognizione senza aspettare il passaggio in giudicato della sentenza senza aspettare poi l'intervento del tribunale di sorveglianza un po' alla volta dicevamo mutamento ampliamento delle sanzioni penali affiancamento accanto alla reclusione anche di sanzioni penali di natura diversa come la detenzione domiciliare di natura interdittiva cioè vietare al soggetto l'esercizio di determinate attività e via di seguito poi la fantasia razionale scusatemi l'avvinamento la contrapposizione tra aggettivo e sostentivo la fantasia razionale può inventarsi tante altre soluzioni alternative depenalizzazione senza dubbio limitazione della custodia cautelare in carcere ai casi estremi e in ogni caso direi in istituti distinti e diversi da quelli destinati a ricevere le persone attinte da condanna definitiva e non dimentichiamo che la situazione oggi è difficile ma io nonostante la difficoltà della situazione attuale ho una nota di ottimismo di cauto ottimismo l'Italia è sotto osservazione da parte della corte europea di strasburgo quindi abbiamo avuto ci è stato dato tempo fino al 29 maggio 2014 quindi siamo qua poco meno quasi 5-6 mesi ma non più di tanti 5-6 mesi volano subito quindi dobbiamo muoverci e devo dire perché sono leggermente ottimiste perché sto notando si nota penso anche voi state notando un'attenzione una maggiore sensibilità nonostante le difficoltà oggettive sta nascendo una sensibilità e un'attenzione verso il mondo penitenziario che prima non esisteva questa sensibilità viene dal mondo accademico dagli studiosi da parte dell'opinione pubblica da parte dei mezzi di informazione da parte delle associazioni che vivono nel nostro contesto e anche da parte delle forze politiche sia indicativo il messaggio che il capo dello Stato ha inviato al Parlamento è la suprema magistratura italiana che ha posto l'accento su questo tema e poiché c'è la scadenza di maggio del 2014 io penso che qualcosa si ottiene che cosa non lo so ma sono convinto che non possiamo rimanere inerti passivi perché avremo delle conseguenze molto gravi quantomeno sul piano economico io non penso che la classe politica che ci governa i partiti o gli esponenti che siedono in Parlamento restino insensibili a questa difficoltà voglio solo aggiungere che le esigenze le tematiche le problematiche penitenziarie fanno parte della nostra società il mondo penitenziario non è un mondo staccato dal mondo cosiddetto civile sono componenti di un'unica società deve nascere una continua osmosi noi dobbiamo sentirci parte integrante degli istituti penitenziari le persone che stanno all'interno degli istituti penitenziari devono sentirsi parte integrante della nostra società libera e devono tendere costantemente a ritornare in mezzo a noi per fare questo c'è bisogno anche di spendere dicevo istituti penitenziari con laboratori professionali istituti penitenziari con presidi sanitari autosufficienti all'interno tutto questo richiede spese investimenti e qua bisogna che l'opinione pubblica faccia sentire la sua voce i suoi convincimenti in modo che le forze politiche che ci rappresentano possono trasformare in leggi in leggi in norme queste esigenze e bisogna vincere una convinzione a mio sommesso avviso sbagliata cioè secondo la quale gli investimenti nel mondo penitenziario sono improduttivi alcune volte sento dire da persone rispettabili ma noi abbiamo tante difficoltà economiche come facciamo ad investire in questo mondo no dovete investire soprattutto in questo mondo penitenziario l'investimento le spese per il mondo penitenziario istituzioni di presidi sanitari assunzioni di psicologi che possono seguire da vicino evitare i suicidi operatori professionali che insegnano nuove attività e anche una coscienza civica civile nostra di fiducia verso il mondo penitenziario che diciamo è un po' bassa la società non ha molta è scadente benissimo questo è l'aggettivo esatto e allora bisogna che si faccia questo e l'investimento la spesa nel mondo penitenziario è produttiva produce un bene fondamentale quale bene produce la sicurezza del cittadino e la sicurezza del cittadino è la premessa indispensabile essenziale fondamentale per lo sviluppo di ogni società civile quindi se investiamo se il governo spende investe in modo intelligente e razionale e noi tutti partecipiamo a questo sforzo noi abbiamo adempiuto non solo un obbligo costituzionale non solo un obbligo che ci viene dalla corte di Strasburgo non solo un obbligo etico ma abbiamo fatto anche un servizio sul piano economico per le successive nuove generazioni io non voglio illudermi però dico che il momento è decisivo siamo ad una svolta questa è l'occasione buona se perdiamo queste occasioni i tempi poi diventerebbero più difficili grazie 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 a tutti